Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto penale. Il per il prestigio, la reputazione, la professionalità e preparazione che da sempre contraddistinguono lo studio legale nell'ambito dei reati transazionali e cross-border dei colletti bianchi, dimostrando una profonda conoscenza in ogni sfaccettatura e controversia in materia del diritto penale. Il premio va a Studio Legale Pulitano Zanchetti. Complimenti allo studio legale collegato con me l'avvocato professor Mario Zanchetti, socio fondatore. Bentornato e bentrovato. Un commento a caldo. Che cosa significa per voi in questo momento il premio? Significa che il lavoro va avanti anche nel momento del Covid con queste condizioni così difficili, con i tribunali quasi fermi. Un momento interessante per lavorare pur nella situazione di crisi. Stiamo collaborando un po' tutti, avvocati, magistrati, funzionari amministrativi dei tribunali per far mandare avanti il funzionamento della giustizia penale e ricevere un premio quest'anno a significanza del fatto che il lavoro va avanti e viene svolto dopo un alto livello professionale. Ovviamente fa particolare piacere. Certo, abbiamo sentito tanti sostantivi importanti nella motivazione. Prestigio, reputazione, professionalità, preparazione. Insomma, è una ricetta assolutamente che non può essere... dove non possono essere eliminati nessuno di questi, insomma, mi viene da dire. No, siamo due professori universitari ormai da tanto tempo. Il professor Pulitano e io abbiamo da sempre unito la competenza accademica, l'insegnamento universitario alla professione applicando in entrambi la stessa ricetta che è studiare tanto, non smettere di studiare mai, continuare ad aggiornarsi, continuare a lavorare sempre con la passione ma anche con l'atteggiamento di costante dubbio e di costante ricerca che deve caratterizzare il nostro mestiere. Assolutamente. Se ci si siede sugli allori si è finito. No, 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 ma infatti guardi, avvocato, una delle parole chiave che ritornano anche in questi nostri, le fonti awards, è proprio formazione, da quella non si può prescindere. Anche perché cambia sempre tutto, cioè il diritto che abbiamo studiato all'università, il diritto che ho insegnato all'università l'anno scorso è diverso dal diritto di quest'anno, quindi il diritto è una materia vivente. La vita della legge non è mai stata la logica, ma è l'esperienza, diceva il giudice Holmes, un vecchio giudice della Corte Suprema Americana nell'Ottocento ed è proprio così, cioè ci vuole tanta esperienza e tanta applicazione per questo lavoro. Su questa citazione io rinnovo ancora i miei complimenti allo studio legale Pulitano Zanchetti e naturalmente ringrazio l'avvocato professor Mario Zanchetti, socio fondatore, per essersi collegato con noi e appunto complimenti e uno sguardo al futuro, ci rivediamo presto, magari con un altro premio. Grazie davvero. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti.